Ormai è fatta, il patto giallorosso sta per prendere quote anche in Puglia. L'ingresso del Movimento 5 Stelle in giunta è questione di ore. Oggi e domani il voto su Russo rispetto all'ipotesi di accordi con altre forze politiche. Saranno 23 i quesiti inseriti nella piattaforma e in caso di esito positivo potrebbe garantire l'ingresso in giunta della foggiana Rosa Barone, che fa parte del gruppo dei quattro consiglieri pugliesi fedeli alla linea governista. A Rosa Barone Emiliano le assegnerebbe la delega del Welfar. Intanto la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, ha insediato le sette commissioni permanenti. Al PD quattro presidenze, Fabiano Amati, bilancio e programmazione, Francesco Paolicelli, sviluppo economico, Donato Metallo, politiche del lavoro e formazione professionale e il manfredoniano Paolo Campo, che guiderà la commissione Ambiente e Assetto del Territorio. Il lucerino Antonio Tutolo della lista CON sarà capo della commissione Affari Generali, Mauro Vizzino dei Popolari guiderà la sanità, una commissione anche all'opposizione con il leghista Gianfranco De Blasi, che sarà capo della commissione Affari Istituzionali. Soddisfazione è stata espressa dalla presidente Loredana Capone, assistita dal vice Gian Nicola De Leonardis e dal consigliere segretario Sergio Clemente, entrambi i foggiani. Questa legislatura ha commentato si avvia all'insegna di un mix equilibrato tra esperienza e novità. Il primo obiettivo è quello di rispettare le scadenze e chiudere entro Natale con la sessione di bilancio.